Torna a casa la madonnina del pescatore del subacqueo recuperata grazie ai palombari del raggruppamento subacqueo e incursori della marina militare da santuario sottomarino che si trova sul fondale a largo di punta 420. Sul monoborbonico ad attendere la statua insieme ai bagnanti al sindaco di Ercolano Ciro Bonaiuto il comandante della base della marina militare di Napoli Agnello Cuciniello, gli assessori Anna Giuliano e Mariarca Cascone, i consiglieri comunali Andrea Fiengo, Teresa Solaro e Michele Simeone. La statua in queste settimane sarà sottoposta ad una serie di interventi di pulizia e restauro in vista della festa della madonna del pescatore del subacqueo che come della tradizione si terrà domenica 17 settembre. Oggi è una giornata importante per la mia città, per la mia Ercolano e per tutti i fedeli perché oggi torna a casa sua la madonnina del subacqueo. Come sapete noi ogni anno abbiamo questa tradizione ovvero la riportiamo nella sua chiesa a casa sua, i fedeli la puliscano, la curano e poi ritornerà a mare con una grandissima festa popolare. Io ringrazio i palombari del nucleo SDAI di Napoli con il comandante Aniello Cuciniello perché anche grazie al loro amore che la madonnina dei pescatore del subacqueo ogni anno viene accudita dalla nostra comunità. Quindi grazie, grazie a tutti, grazie all'assessore Giuliano, grazie all'assessore Cascone, grazie ai consiglieri comunali che sono presenti, grazie a tutta l'amministrazione perché questa iniziativa è un'iniziativa che condividiamo con tutta la nostra comunità.